L'incontro del comando a Latina è stato un incontro con tanti esponenti, bene di celebrare questo passaggio anche importante, si parla di carriera al servizio dei cittadini. Sì, è un traguardo importante per me, però è una scusa per stare insieme a voi e per capire che tutte le istituzioni provinciali sono vicine al cittadino, perché il cittadino rimane comunque sia il nostro futuro di lavoro e oggi in questa presenza, anche la vostra e vi ringrazio veramente di voi, è una dimostrazione che la provincia italiana è molto unita con voi, con tutte le istituzioni e con le famiglie che qui lo piacciono a voi. Lei ha ribadito che l'arma dei carabinieri è e sarà sempre vicino, al fianco della gente dei cittadini. Nasce per la gente, cresce con la gente e sarà sempre per la gente. Anche e soprattutto anche a relazione di un bisognizio. Una carriera brillante, c'è un episodio che ritorda in particolare di questa sua lunga carriera? Sono tanti, devo dire uno che è stato particolarmente cruento è quando i miei carabinieri motociclisti del 2004, diciamo purtroppo perché comunque sia l'avento che il cruento, dopo giorni e giorni di ricerche a Roma, voi ricorderete la storia del lupo, Luciano Riboni, ecco i miei motociclisti e io ero comandante per un motociclisti dentro di un grande orgoglio, hanno catturato e purtroppo non si poteva fare a meno, rimasi ucciso il bandito, che comunque si evitava di aver creato grande, grande terrori, uccidendo all'altro il nostro appuntato scelto. Per chiudere un episodio o qualcosa che invece l'ha colpita del pontino della provincia di Latina ormai da tempo? Ma io devo dire, c'è una grande professionalità, questo l'ho trovato dappertutto e devo dire la cosa più importante per me che sono un uomo delle istituzioni, un uomo che sono motivato, lo sento, veramente lo dico e ci tengo a dirlo nel profondo del cuore, ho trovato tanta motivazione tra tutti quanti i funzionari qua della provincia di Latina, e questa è una cosa più importante ed è una garanzia per il cittadino, perché qui c'è gente che ha voglia di lavorare e lavora veramente col sano desiderio di essere vicino alla popolazione. Bravo!